La canzone che arriva adesso è stata per me, per quando l'ho scritta, è stata per la persona per cui l'ho scritta ed è stata utile anche per qualcuno di voi che molto carinamente me l'ha fatto sapere È la prima data di un tour tutto esaurito da mesi Credo che la vita non è giusta come la vorresti te Sopra il gioco di dolore e uno ha